ciao a tutti des video ciao a tutti des video siamo qua con chi allora sembra peter griffin in realtà è angelo vediamo perché peter griffin l'hanno fatto con i muscoli al posto che con la pancia era meglio si era più quello originale era più stile sono caduto che lavoro ufa non ho bevuto abbastanza acqua maialina ma che giovedì non è ieri perché questo video non si sa quando verrà caricato quindi non fate caso al ieri vabbè dico giovedì io ho preso un ottimo in una storia di quattro pagine di natale mamma mia di natale i compagni hanno fatto un giudizio e mi hanno detto che un mio compagno proprio era rimasto stupito perché diceva che la mia storia era fantastica ma che lavoro ma la storia inventata da te sì ma c'era babbo natale sì anche gli alfi no no eren si video ti spiego ti dico qual era il titolo babbo natale e il bambino magico ed eri tu il bambino magico no no ah sono caduto che vim di mamma ho perso l'aereo ah ok ok che salutiamo gli è andato la stella l'attore ma quelli calcini gli è andato la stella sul video invece nell'ultimo giorno di scuola di dicembre perché poi c'erano le vacanze abbiamo giocato alla tombolata e ho vinto dei guanti e un evidenziatore se la maestra mi lasciava prendere i premi anche se video forse lo sai che ovviamente avrà barato avrà barato i numeri in tasca a natale poi fare quello che non puoi fare ma ti seguo nella vigilia vado a casa di mio zio di sera e viene babbo natale no poi no 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 ha detto che viene a casa mia sono caduto comunque ha detto che veniva a casa mia babbo natale cioè come come fa io io sui video sai cosa ho chiesto a babbo natale è l'acqua maialina è perché ci sono 17 ore di distanza tra me e te quindi o le renne ci ha ci ha dato molta benzina quelle renne lì perché non lo so cioè beh è 17 ore di distanza eh sì in treno in treno se vengo a piedi cioè ciao buonanotte arrivo lì tra un mese video ti stavo dicendo è la notte della vigilia è la notte della vigilia e qualcuno regalo il regalo si piglia un regalo che è una meraviglia vai 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 la notte della vigilia è 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 la notte della è tutto il giorno di Natale va a casa di mio zio e giochiamo a Cucu cos'è Cucu? cioè a te ti nascondi e uno fa Cucu un gioco di carte ah non lo so un gioco di carte si chiama Cucu no non lo conosce Cucu io conoscevo che uno si nasconde l'altro lo vede ah ti ho trovato Cucu Cucu è un gioco siciliano e che ne so io allora non lo conosce eh che non è te lo apri l'Italia, la Spagna l'Emilia-Roma tutte le zone nel 2050 di Fortnite, tutto il mondo tutto il mondo tutto il mondo è paese questo è il video tutto il mondo e atterriamo tutti per esempio io a terra a casa mia mi stream driver da solo dopo viene il player davanti a me e killa tutti eh si e svideo svideo ma è nella salive va a casa sua e si uccide da solo su Fortnite perché mi devo uccidere da solo cioè non ho capito ah 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 no 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 son vivo son vivo son vivo avevo paura che cadeva ma son vivo son vivo eh perché no sembrava che avesse uno zoccolo fuori dalla piattaforma sembrava è una mucca la mucca ha gli zoccoli non lo sai svideo mi dissocio ma cosa ma scusa te che mucca conosci la mucca maialina è un po' strana la mucca maialina allora oh oggi forse il record di oggi no no svideo no non è vero ci sono due ma stai scherzando ma quel tronco ma troncate quel tronco ma che lavoro ma insomma ma non si può è troncare non è una parola no non c'è scritto da nessuna parte qua quindi non ci crediamo ma perché a te non ci spuntano le scritte delle season boh spunta niente qua svideo ti dico ti canto la canzone mia della recita natale festa per la vita che nasce natale festa per la sede di pace natale vuole dire amore aperto a tutti e che svideo abbracerà ragazzi allora se tu das video ti iscriverai tanta fortuna tu avrai ma non lo so si si no si 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 è vero è vero è vero è vero è vero è vero vero molta fortuna molta fortuna se tu das video donerai eh i regali riceverai no 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 ma donate lo stesso io voglio il cash ma insomma i regali bisogna avere per forza qualcosa in cambio quindi se uno regala regalate pure figlio ti dono 100 euro a natale no non ci crede nessuno forza figlio nella live del 22 dicembre anche se oggi non sarà il 22 faccio il 24 il 25 non faccio live il 24 per quello me li dono il 24 perché il 24 non la farò la live allora forse ti farò il 22 cioè ovvero oggi ma il 22 è oggi se il video non uscirà oggi no il video non forse un regalino di natale grazie stavo caduto sui mi ha tirato una laggata che non puoi capire non puoi capire che casco sempre c'è la gente la gente sta guardando un video dove cado sempre guarda cosa ha comprato mio padre a mia sorella vai fischia bello peccato non vederlo peccato non vederlo fischiare fischia ti mando la foto ti mando la foto e ti mando i video sì perché sì perché sennò stanotte non dormo mica insomma allora non sai che stanotte alle 5 mi sentivo malissimo ma io ho fatto un incubo allora vabbè ieri vabbè questo video non viene caricato oggi ma fa lo stesso comunque quindi diciamo ieri mentre sto parlando era un giovedì ok quindi giovedì giovedì c'è stata ieri cioè ma non ieri perché oggi non si sa quando viene caricato sto video no sono caduto nella season 4 ah ok comunque giovedì c'era il compleanno di samuele mio nipote e quando facciamo ancora tanti tanti auguroni e dopo la notte sono andato a dormire dopo la festa e mi sono sognato che lui si chiudeva in una valigia e dopo la valigia c'era la combinazione e non troviamo più la combinazione per aprirla quindi lui era lì dentro e c'è l'incubo che c'è lui ce non respirava più allora dove cercare di salvarlo dopo ho preso una sega ho dovuto segare tutta la valigia e dopo sono riuscito a liberarlo però una paura mamma mia io sai cosa pensavo che avevi sognato l'incubo che avevi sognato che bevevi l'acqua mucchina no ma no ma chi è che ha messo un buco lì ma no ma c'è un trucco ma io non ero mai entrato in quella porta se entri dalla porta c'è un buco e cadi giù no svideo svideo facciamo questo malo guarda vieni qua vieni qua dai che chiudiamo il video chiudiamo il video così così poco poco cosa continuiamo ma no ma sarà durato 18 18 20 minuti sto video ma che 18 20 minuti ma si sono le 13 e 26 ma il video l'abbiamo iniziato alle 35 ma cosa le 35 cosa stai dicendo se 13 26 come il 35 sarebbe nel futuro cosa dici va bene no io continuo allora facciamo allora la prossima volta che cado stoppiamo no la prossima volta che pure io cado è buonanotte è buonanotte cioè diventa chi lo mette questo video ma secondo te ma secondo te ma allora diventa una live non è più un video è una live diventa video video oh buon natale buon natale buona pasqua visto che no non so quando quando verrà caricato il video vi dico anche buona pasqua no sono caduto anche io sono caduto niente dai vieni dai abbraccino finale ho visto video sai cosa mi ha insegnato questa mia compagna eh jingle bell jingle bell picciuluncinne io mi dissocio non ho capito ma nel dubbio mi dissocio no picciuli sono i soldi ah e e in italiano vuole dire jingle bell jingle bell ma sai che quando eri in alto c'era la tua ombra sembrava l'ombra di uno scogliattolo volante si davvero allora comunque l'abbraccio abbraccio allora con questo abbraccio facciamo tanti auguri di buone feste buon natale e speriamo e speriamo che questo video arrivi arrivi prima di natale speriamo che questo video arrivi prima di natale a natale ci può fare di più a natale a natale si può donare di più a svideo nella vigilia nella vigilia si la vigilia è vigilia è tutto regalo si piglia che è una meraviglia alla vigilia nella vigilia eh cosa c'è il regalo si piglia che è una meraviglia va bene chiudiamo il video qua grazie a tutti quelli che l'hanno visto ma non saluta pure peter griffin ecco ma noi ringraziamo anche quelli che non l'hanno visto ecco quindi auguri buone feste a tutti ciao 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 ciao